L'Europa mal governata fino ad oggi è un'Europa fondata sulla precarietà, sulla paura e sull'immigrazione di massa. Noi semplicemente vogliamo rimettere al centro il diritto al lavoro, il diritto alla vita, il diritto alla sicurezza e alla felicità, quindi chi deve aver paura sono quelli che hanno mangiato a scroco fino a ieri. Tagliani dice che lei deve rientrare nell'alvio del centrodestra. Io faccio quello che mi chiedono i cittadini, c'è un contratto di governo e vedremo di rispettare fino in fondo il contratto di governo, non solo sui temi di cui sono direttamente responsabile, quello dell'immigrazione, della sicurezza e della lotta alla mafia. A proposito faccio in complimenti alle forze dell'ordine che nelle ultime ore hanno arrestato decine e decise di mafiosi, camorristi e di trafficanti di esseri umani, però anche sui temi fiscali, sul tema del lavoro, sul tema della legge Fornero, sul tema della riduzione del tasso e il rapporto con Equitalia, quindi fino a che ci sarà quel contratto di governo io a quel contratto mi attengo. Grazie.